Anticipazioni Beautiful, trama puntate, martedì 2 novembre 2021. Ridge telefona a Shauna per dirla di averla smascherata. Ha scoperto che il messaggio inviato a Carter per il divorzio è stato composto da lei. La Fulton ammette tutto e afferma di essere molto dispiaciuta. Sognava così tanto una vita con lui da non essere stata in grado di controllare le sue azioni. Ammette che è stata Queen a suggerirle come agire. Il Forrester le rivela che non intende più portare a termine la cerimonia. Shauna triste scoppia in lacrime. Più tardi Brooke torna a casa e chiede a Donna e Hope di essere lasciata un po' sola. Salita in camera da letto nota dei petali di rosa a terra e li segue. Giunta fino al camino trova Ridge ad attenderla. La informa di aver effettuato la sua scelta. Non può e non potrebbe mai sposare Shauna perché è lei la donna che ama. Queen scopre che Shauna e il Forrester si sono lasciati. Grazie.